Ha dato fuoco ad alcuni cartoni fuori dal supermercato Carrefour di via Marconi a Pallanza, arrestato nel primo pomeriggio di ieri dai carabinieri della sezione radiomobile di Verbagna un 66enne di nazionalità cieca senza fissa dimora. L'incendio è divampato proprio davanti al seggio elettorale della scuola Guglielmazzi. Immediatamente sono partite diverse chiamate al 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri. I militari, mentre i pompieri spegnevano le fiamme fortunatamente senza gravi danni grazie alla tempestività dell'intervento, grazie anche alle testimonianze fornite da alcuni cittadini, hanno trovato il responsabile poco distante. Era in possesso di un accendino. Portato in caserma è stato identificato ed è emerso che ha precedenti specifici a incastrarlo le telecamere di videosorveglianza del comune. Dopo una notte in carcere oggi è comparso in tribunale per il processo per direttissima. Il giudice Annalisa Palomba ha convalidato l'arresto, è stato rimesso in libertà con divieto di dimora a Verbagna.